Una grande festa a Bolano per San Pietro e Paolo, una tavolata di 200 persone e soprattutto l'inaugurazione di un orto chiuso che vi è stato donato. Sì, abbiamo fatto coincidere i festeggiamenti di San Pietro e Paolo che è una tradizione a Bolano che quest'anno si sono concretizzati con la classica tavolata organizzata soprattutto con le nostre donne che hanno portato tutto quello che in effetti è la tradizione dunque abbiamo messo nel borgo un po' la bontà bolanese della nostra cucina. Abbiamo fatto il faloppio propiziatorio davanti alla nostra chiesa e soprattutto Don Fausto Spella, il nostro pievano, ha pensato bene di far coincidere, di organizzare l'inaugurazione di un orto murato che è stato donato circa 20 anni fa alla nostra parrocchia dagli eredi del signor Giglio Grossi, un mecenata che lo ringraziamo pubblicamente, ha dato questo orto murato all'interno del centro storico di Bolano dove abbiamo approntato una parte coperta ad uso refettorio e ad uso riunioni e una parte scoperta con i giochi soprattutto estivi che i nostri ragazzi dal prossimo lunedì avranno modo di praticare con dei campus estivi e dunque tutti i ragazzi del comune di Bolano, anche di Separana circa una quarantina per il mese di luglio avranno come base logistica questo orto murato. Siamo su un intero paese, in un paese come Bolano e forse anche tanti altri c'è ancora senso di comunità? Sicuramente, nel rispetto dei ruoli lo dimostra il fatto che abbiamo fatto tagliare il nastro a una delle nostre concittadine più vecchie a Bertolotti Marina che ha tagliato questo nastro che è un consegnarlo alle nuove generazioni. Devo dire che ieri sera tutti i bambini del paese erano presenti, hanno già avuto modo di entrare dentro questo luogo nuovo la curiosità e tutto il volontariato, devo dire che in gran parte il volontariato ha fatto tutto quello che ai miei soldi sono limitati e colgo l'occasione a nome della parrocchia di Bolanen di ringraziare le varie associazioni di volontariato da Borgo Incantato che vedrà il prossimo sabato e domenica una festa per i nostri bambini all'associazione sportiva bolanese, a Convivi, a un'altra nuova associazione che hanno contribuito a dare una pulizia e a fare sì che il luogo sia accessibile in sicurezza soprattutto per i nostri bimbi.